Il termine blockchain ha trovato notorietà recentemente, soprattutto perché è stata spesso abbinata al concetto di criptovalute, che ha avuto una evidente esposizione molto molto elevata in questi ultimi tempi sui media internazionali. Ma in realtà il concetto di blockchain sta ad identificare un cosiddetto registro pubblico di informazioni, perché per quanto riguarda le criptovalute era necessario conoscere tutte le transazioni, chi le poneva in essere e soprattutto risalire e ricostruire i vari passaggi che erano avvenuti. Questa tecnologia della blockchain però può essere applicata in numerosissimi campi, pertanto non solo legato alle criptovalute, ma ad esempio al fenomeno agricolo. Infatti spesso, in questi ultimi anni, la blockchain viene applicata per la rintracciabilità di un prodotto, cioè per capire tutti i passaggi e per il necessario registro pubblico, per vedere tutti i passaggi che hanno portato ad avere un prodotto finito, per cui ad esempio si può rintracciare da dove arriva il seme, in quale terreno questo seme è stato seminato, chi ha raccolto il prodotto, in quale società è stato portato per la sua trasformazione, come è stato fatto il prodotto finito, ma soprattutto poi in quale ambito di distribuzione questo è avvenuto. Quindi tutto questo può avvenire perché si parla di registri pubblici di informazioni, quindi sono tante informazioni tra loro concatenate e che non possono essere modificate nei vari passaggi, per cui assicura anche la massima sicurezza e tracciabilità delle informazioni. Ecco, questo è il concetto generale di blockchain.